ok ragazzi eccoci qua tornati in un nuovo episodio di minecraft siamo qui che ce l'avamo lasciati il live dove eravamo andati a cercare gli diamanti però non ne abbiamo trovati ma in compenso abbiamo preso degli altri materiali siamo qui in caverna saliamo su devo fare assolutamente una farm di creeper per mettere ci portiamo allora a polisher than the site che dobbiamo finire il tunnel nel land posiamo la tuff la carne marce la posiamo e praticamente ragazzi ritorniamo nel land a finire il tunnel ah questi sono birch leaves qua ci sono nuovi libri che andiamo a mettere nella farm nella lì dove abbiamo il nostro libro di incantesimi ci facciamo anche quest'altro in polisher than the site anche per stare più sicuri che finiamo e praticamente andiamo a vedere fortuna 2 ho 31 livelli vediamo un po l'attimo metting efficienza 2 l'efficienza 3 e un peking 3 metto questa scusa è efficienza 5 e un peking 3 blast protection 4 metting trance 2 mentre vabbè questa mia c'ha la nederite andiamo un attimo a dormire ragazzi così è 16 e così è 20 facciamo così l'efficienza 5 un peking 3 amending perfetto e abbiamo una nuova pala ragazzi mentre poi vabbè che non possiamo fare più incantesimo incantesimo questa redstone che abbiamo trovato qua c'è un diamo di pixar fortuna 2 ok ok possiamo tornare nel land a finire il tunnel dovremo fare ragazzi anche una farm di creeper appena finiamo questa farm di enderman nel land andiamo a fare una farm di creeper appena finirà appena finire appena finire la prossima appena finire con le appena finire un po troppo 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 veloce ed eccoci arrivati ok mettiamoci la nostra armatura e scendiamo giù così andiamo nell'end aia devo fare un doppio tunnel una nuova entrata anche qua nuova entrata d'arrivo perché se no qua ogni volta che arrivo nel land succede un casino che posso poi andare a fondo cadere nel vuoto mettiamo delle torce qui no no ok il tunnel era finito quindi il tunnel era finito ok non mi ricordavo che fosse che fosse finito ragazzi vabbè questo togliamo le qua che non serve visto che sono qui mi metto a riparare un po' il piccone non mi metto a riparare un po' piccone riparato mettiamo questi enderpearl qui che non mi servono guardate qui che è un enderpearl torniamo di nuovo a livello 30 c'è da riparare l'itra 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 è riparata perfettissimo ci facciamo un po' di esperienza ragazzi e arriviamo a livello 30 quindi il tunnel praticamente è finito magari facciamo anche una spirale qui vediamo come abbellire questo tunnel qui fine qui vediamo via via Facciamo un altro po' di livelli E poi ragazzi ci salutiamo per questo episodio Anche se non abbiamo fatto nulla Perché pensavo Che fosse non completo il tunnel A me invece è completo Ci siamo portati questi materiali Così per senza niente Ok siamo a livello 30 Usiamo qui Questa spada E ce ne ritorniamo A casa ragazzi Pensavo che non fosse finito il tunnel Invece è finito Ma va bene così No ok Manca il kelp Per salire più veloce Oh dai 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 Manca il kelp Ragazzi ecco cosa mancava No la soul sand Ecco che mancava Mannaggia non ho preso la soul sand Dove finire la soul sand E andiamo a prendere Oggi sarà un episodio Più grande Ma Massimo no dai Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti belli Ciao a tutti belli Ciao a tutti